Ciao ragazzino, non volevo spaventarti, mi chiamo Happy Jack. Una nuova frontiera si avvicina, la macchina del tempo è pronta ad accompagnarvi nel nuovo millennio attraverso lo spettacolo della scienza, il fascino delle scoperte, la passione per la vita. Centinaia di milioni di anni fa, quando i loro antenati sono ritornati al mare, le loro zampe si sono trasformate in pinne. Il nuovo millennio ha ormai superato da alcune ore l'Europa. Nei paesi del nord il sole che scivola lungo l'orizzonte porta la luce, ma non riscalda quest'alba tersa e gelida. Dopo la campagna d'Egitto condotta da Napoleone nei primi anni del XIX secolo, i francesi saccheggiarono le terre lungo il Nilo. Il Liopleurodon Ferox è il più grande carnivoro che abbia mai abitato la terra. È una macchina da caccia lunga 20 metri. La grande fiction Mediatred è un'altra grande protagonista della stagione primaverile Mediaset. Ai tempi di Orblauer, la vita di bordo era all'insegna di stenti e precarietà. Le uova sono il simbolo della vita nuova, della vita che nasce, della fertilità e della gioia della primavera. Mentre si avvicina alla verticale dell'isola di Chatham, il volo a N999 comunica alla torre di Oakland il passaggio ad una quota superiore. I colori della natura, le bellezze del nostro pianeta, questa volta avranno un punto di vista del tutto diverso. Prime Time 2001, canale 5 e la prima rete d'Italia. Infine vi parleremo della misteriosa rete di passaggi sotterranei della piana di Giza. Questo è solo un assaggio dei colori e dei sapori che fanno da cornice alla sua saga. Sembra una storia di fantascienza. Ci abbiamo provato. Grazie a tutti.